Buongiorno a tutti, oggi vedremo come si esegue una proiezione ortogonale di un gruppo di solidi. In particolare prenderemo in considerazione una piramide a base quadrata e un parallelepipedo. Come vedete nella rappresentazione tridimensionale, la piramide a base quadrata sarà sollevata di qualche centimetro dal piano orizzontale, mentre il parallelepipedo è appoggiato al piano orizzontale stesso. Cosa succede? Che guardando dall'alto il gruppo di solidi, i due solidi, vedremo che la piramide è separata dal parallelepipedo e in particolare in questo caso la piramide sarà più in basso, ovvero più lontana dalla linea di terra, mentre il parallelepipedo sarà molto vicino alla linea di terra. I due solidi nel piano orizzontale sono appunto separati, ma cosa succede guardando verso il piano verticale? che chiaramente la piramide andrà a coprire, a nascondere in parte il parallelepipedo, che vedremo appunto solo in parte, perché resterà nascosto dal solido davanti, in questo caso la piramide. Nel piano laterale i due solidi saranno invece uno accanto all'altro, quindi la piramide in questo caso non nasconderà il parallelepipedo. In proiezione ortogonale cosa succederà? Dovrò chiaramente iniziare dal piano orizzontale disegnando i due solidi. Abbiamo detto che il parallelepipedo sarà più vicino alla linea di terra e invece in basso avrò la piramide a base quadrato. In questo caso avere due solidi anziché uno non mi comporta assolutamente nulla. Quindi posso andare chiaramente a mettere tutte le lettere, saranno 5 vertici per la piramide e 8 chiaramente per il parallelepipedo. faccio notare che se per la piramide sono arrivato la lettera D, per l'altro solido dovrò continuare con l'alfabeto, cioè non posso ripetere chiaramente la lettera A che ho già utilizzato per la piramide. Arrivati a questo punto traccio le linee di proiezione verso il piano verticale. Ora mi devo dimondare qual è il solido che vedo per primo, quello più vicino all'osservatore, quello che vedo senza problemi, senza che mi venga nascosto nulla. In questo caso, dato che guardo verso il piano verticale nella direzione della freccia rossa, il solido che vedo per primo è la piramide, che posso disegnare quindi tranquillamente, come se il parallelepipedo nemmeno ci fosse, come se non ci fosse proprio. Quindi traccio le linee di proiezione della piramide e mi disegno tranquillamente la mia piramide come se appunto se il parallelepipedo non ci fosse. Metto le lettere, avendo sempre cura di ricordare che sto guardando in questa direzione, quindi per esempio vedrò prima D e poi A e dovrò scrivere D secondo coincidente ad A secondo. A questo punto mi posso preoccupare del parallelepipedo. inizio a tracciare le linee di proiezione del parallelepipedo e chiaramente l'immagine del parallelepipedo nel piano verticale rappresentata da un rettangolo dovrebbe essere questa in rosso. Cosa succede però? Che una parte appunto del parallelepipedo resta nascosta dal solido della piramide che è davanti. Quindi posso tranquillamente tracciare la parte di parallelepipedo che vedo, ma devo stare attento nella parte appunto che rimane dietro alla piramide. Cosa succederà in quel punto? Che gli spigoli del parallelepipedo non li vedrò e quindi li dovrò disegnare tratteggiati. A questo punto ho finito di disegnare il piano verticale, posso mettere le lettere anche del parallelepipedo e continuare il mio disegno iniziando a tracciare le linee di proiezione verso il piano laterale. Come avevamo detto prima, nel piano laterale ho meno problemi perché i due solidi sono distinti, sono staccati, non si sovrappongono. Cosa succederà quindi? Che guardando in questa direzione verso il piano laterale vedrò la piramide sulla destra e il parallelepipedo sulla sinistra. A questo appunto basta semplicemente che inserisco le lettere e ho terminato il mio disegno. Spero che la spiegazione sia stata chiara, ma lavoro a tutti.